Siamo tutti quanti alla ricerca del prossimo progetto che potrebbe fare per mille. Ebbene sì ragazzi, oggi ho intenzione di parlarvi di un progetto che reputo davvero davvero interessante e che nel lungo termine potrebbe dare grandissime soddisfazioni. Tra l'altro vi anticipo che questo progetto ancora non è uscito e che vi assicuro ha delle cose davvero davvero importanti. Quindi vi consiglio di guardare tutto il video e capire perché secondo me potrebbe essere un progetto che a lungo termine ma soprattutto anche nel medio termine potrebbe dare delle soddisfazioni un po' a tutti. Benvenuto in questo nuovo video se non mi conosci o sono Salvatore. Prima di iniziare una cosa per me sa importantissima. Lascia like al video per supportarmi come sempre ed iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Prima di dirti qual è il progetto voglio farti vedere delle cose subito subito interessanti che ti fanno capire già l'importanza del progetto. Questi che vedi sullo schermo sono gli investitori che ci sono dietro questo progetto. Quindi già potrai notare subito che non stiamo parlando di investitori comuni. C'è Binance Labs e Crypto.com due grandissimi exchange che ovviamente fanno parte degli investitori che hanno finanziato questo progetto. Piccola chicca che voglio darti prima di continuare andando su Binance Labs quindi sul sito di Binance nella sezione Binance Labs potrai trovare una sezione che si chiama Portfolio nel quale potrai vedere ovviamente il portafoglio di investimenti di Binance Labs. Ovviamente questo progetto si trova all'interno di questo portafoglio e molte persone ovviamente utilizzano anche questi portafogli importanti di grandi capitali, di grandi aziende come ad esempio Binance per capire appunto quali potrebbero essere anche nel futuro progetti molto molto interessanti finanziati comunque da persone competenti e che quindi potrebbero avere appunto un risvolto totalmente diverso da quello che di solito sono gli scami, i progetti scami che magari di base non hanno niente mentre molti progetti finanziati ovviamente da Binance Labs, Crypto.com, Ventures Capital e tutti quei comunque fondi che conoscete bene sono dei progetti che fondamentalmente hanno magari un po' più di serietà. Questo non è garanzia ragazzi di successo, non è garanzia di esplosione o di esplosione del progetto in alcun modo possibile ma comunque ci danno già un certo senso di importanza del progetto anche perché comunque questi progetti vengono finanziati appunto da Binance Labs, Crypto.com Il settore più in esplosione degli ultimi anni sostanzialmente e che si prevede anche dei prossimi anni ragazzi è sicuramente il settore dei giochi play to earn collegati a come sapete bene gli NFT e il metaverso, infatti sono sostanzialmente questi i progetti che più sono esplosi e che promettono diciamo ancora ulteriori pump sostanzialmente fino al 2024 quindi fino al prossimo halving eccetera eccetera ma senza dilungarci troppo andiamo comunque a vedere un po' quelli che sono stati i progetti che ovviamente finanziati anche da Binance Labs e che i risvolti hanno avuto sicuramente conoscerete tra tutti questi quelli che hanno avuto più grande pump ragazzi è sicuramente Axie Infinity che è appunto quel gioco play to earn che è stato finanziato da Binance Labs è stato lanciato anche su Binance al prezzo di 0,10 centesimi di dollari e ha toccato prezzi che superavano i 200 dollari quindi un'esplosione davvero davvero incredibile tra questi progetti ovviamente adesso vedrete si trova anche il progetto di cui vi parlo in questo video che tra l'altro vi anticipo ancora di riuscire quindi avete la possibilità, avrete la possibilità di comprarlo sostanzialmente quando era fatta la public sale è già stata fatta una vendita privata ovviamente per gli investitori privati e ovviamente ragazzi vi anticipo anche un'altra cosa chi è all'interno del servizio, chi sarà all'interno del servizio che sto per lanciare ho anticipato già qualcosa all'interno del mio gruppo canale Telegram avrò ovviamente le notizie aggiornate di quando questo progetto uscirà e dove sarà possibile comprarlo in public sale quindi ragazzi vi consiglio di entrare all'interno dei canali gruppi Telegram di seguirmi su tutti i social per essere aggiornati perché arriveranno come vi ho detto già tante volte delle notizie interessanti ovviamente vi do anche un breve aggiornamento su quelli che sono i progetti che sono stati finanziati da Binance Labs che hanno avuto comunque un successo incredibile tra questi ragazzi troviamo anche The Sandbox potete vedere c'è Terra Luna c'è vabbè Polygon che è stata tra i launchpad che hanno avuto più successo poi c'è Boxxel Boxis scusa Boxis che è un altro Play to Earn che ha avuto un grande successo Mobox che è un altro, adesso qua non lo vedete eccolo qui Mobox che è un altro Play to Earn che ha avuto un successo incredibile con il quale c'è la possibilità anche qui di guadagnare ovviamente One Inch quindi ragazzi sono tutti i progetti che hanno avuto poi un riscontro davvero davvero positivo ma adesso non perdiamo più chiacchiere andiamo a vedere qual è il progetto di cui sto parlando come vi ho già anticipato ragazzi sta per arrivare una notizia davvero davvero interessante qualcuno che è all'interno del canale gruppo Telegram già lo sa vi consiglio di entrarci se ancora non sapete che cosa sto parlando vi consiglio di seguirmi anche sui social per quanto riguarda vedere tutti questi progetti grandiosi che arrivano e che arriveranno all'interno del servizio che sto creando insieme al mio team saranno annunciati ovviamente tutti quelli più importanti sarà fatta una selezione di quelli più importanti verranno annunciati quindi non dovrete stare lì a cercare ogni giorno il progetto dove esce, quando esce e come fare per prenderlo perché all'interno di questo servizio sarà già tutto fatto da me e il mio team e non solo, riceverete anche aggiornamento in tempo reale di quando questi progetti voi che avrete la possibilità di acquistare sostanzialmente anche in pretel saranno poi listati sugli exchange più importanti ebbene sì ragazzi il progetto di cui vi sto parlando è Cosmic Guild è sostanzialmente un token di governance questo è l'utilizzo del token che verrà poi listato e a differenza di quello che pensate ragazzi non è un vero e proprio gioco ma si occupa sostanzialmente di creare o meglio ha già una community davvero davvero grande di giocatori play to earn comunque professionisti e di creare una community quanto più grande possibile e questa community vi anticipo che è già bella grossa di giocatori professionisti che appunto sono bravissimi nei giochi play to earn si occupa quindi sostanzialmente di formare dei team e delle gilde quindi all'interno dei giochi più importanti e possiamo vedere subito ragazzi che tra i giochi appunto nel quale stanno tutti formando questi team e questi giocatori professionisti si trovano Axie Infinity, Pegaxi che molti di voi comunque conosceranno Cypher, Metasocer sono comunque tutti i giochi col quale hanno stretto delle partnership e ragazzi questa è davvero una bella notizia perché vi anticipo subito se questo trend dei giochi play to earn che penso sarà il trend anche del futuro questi giochi si espanderanno sempre più quindi sempre più persone si avvicineranno a questi giochi e a questi giochi avranno sempre più successo allora ovviamente così come si stanno formando oggigiorno ci sono tantissimi team di giocatori e di pro player sostanzialmente quindi giocatori professionisti che fanno i giocatori come proprio lavoro ovviamente ragazzi questo progetto mira proprio a creare delle gilde quindi dei team professionisti all'interno di tutti questi play to earn che si stanno sviluppando cosa importante ragazzi per chi di voi è già un giocatore di questi giochi play to earn ed è anche bravo magari e vuole entrare all'interno del team di gioco di Cosmic Guild può all'interno del sito fare domanda accedendo a questo link che trovate in sovrimpressione cliccate sul link e fate domanda appunto per rientrare tra i giocatori di questo progetto quindi come vi spiegavo questo progetto ovviamente raccoglierà dei fondi e questi fondi verranno gestiti ovviamente dal team e saranno una parte sarà ovviamente adibita a comprare sostanzialmente ad aiutare i membri giocatori professionisti di questi giochi acquistando ovviamente degli nft aiutandoli ovviamente a vincere e diventare sempre più forti all'interno dei giochi quindi se ci sarà una gestione completa ovviamente il token ha un utility di governance da ovviamente quindi chi avrà il token avrà diritto ovviamente allo staking tradizionale per poter guadagnare ma anche un diritto di voto per diciamo la gestione di un po' di quello che è il progetto come vi dicevo questo è l'utilizzo del token che verrà ovviamente listato mentre per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi che verranno raccolti serviranno appunto ragazzi ad essere investiti sia per creare questa community di giocatori professionisti sia per aiutarli e a gestire un po' tutto quello che è il mondo del metaverso e dei giochi play to earn perché ovviamente questi fondi serviranno anche a creare un portafoglio di investimento sostanzialmente e a scalare un po' questo mondo che si prevede sia in crescita per quanto riguarda il futuro fate attenzione agli scam ragazzi perché il token non è ancora creato quindi se in giro vi dicono di comprare il token Cosmic Guild eccetera eccetera non comprate è sicuro al 100% uno scam perché il token non è ancora acquistabile ovviamente quando potrà essere acquistato verrà annunciato il lancio è previsto per il Q1 2022 quindi dovrebbe essere a breve sostanzialmente verrà annunciato sui canali social che trovate sul sito e tra l'altro ragazzi come già vi ho detto se entrate all'interno dei canali gruppi telegram verrà annunciato all'interno anche del mio servizio tra l'altro come potete vedere anche dal loro twitter ha raggiunto una private sale di oltre 3 milioni con Crypto.com e Capital sostanzialmente e un altro milione e mezzo ragazzi sempre potete vedere sul loro account twitter grazie a Binance Labs quindi ovviamente i fondi dietro questo progetto ci sono e sono anche tanti quindi penso che sicuramente potrà dare delle grosse soddisfazioni sia quando verrà lanciato ma soprattutto nel lungo termine qualora il mondo dei giochi play to earn NFT metaverso eccetera eccetera continuate a espandersi e avere maggior successo se vi piace questo genere di video ragazzi fatemelo sapere nei commenti sapete che apprezzo tantissimo i vostri commenti lasciate like al video come sempre seguitemi su youtube e su tutti i social non vi dimenticate di entrare nei canali e gruppi telegram per questo video è tutto io vi aspetto ogni giorno con un nuovo video ciao